I giardini botanici e i musei di storia naturale svizzeri conservano più di 60 milioni di reperti. Dietro ad ognuno di questi si nasconde una storia unica, a volte così straordinaria che si stenta a crederci. Secondo te la storia seguente è vera o è completamente inventata? Ci troviamo al Museo di Storia Naturale di Lugano, nel locale dove è depositata la collezione di vertebrati, o diciamo una parte di essa, e volevo parlarvi un attimo di un reperto particolare dei 7.000 che abbiamo qui. Sarebbe questo. Questo è un animale che è stato ucciso in un pollaio del Mendriseotto nel 1988. Si tratta di una nutria, chiamato anche Castorino ai tempi, ed è un roditore di origini sudamericane che è stato portato in Europa un centinaio di anni fa per essere allevato, per ricavarne la pelliccia, per poi fare delle giacche, dei mantelli, lavori di questo tipo. Ai tempi in cui è stato trovato questo animale era abbastanza sconosciuto. Oggi invece lo troviamo abbastanza frequentemente, si tratta di una specie invasiva, dannosa all'agricoltura, poi anche dannosa per la stabilità delle rive, dei fiumi, eccetera. Però ai tempi appunto non era conosciuto, quindi chi l'ha trovato e le persone a cui ha chiesto erano stupite, incuriosite da questo animale che sembra effettivamente un grande topo. Poi anche i tempi erano passati pochi anni, un paio d'anni dal disastro nucleare di Chernobyl, quindi lì le ipotesi poi si sono sprecate e si parlava di una nuova specie creata da mutazioni genetiche. Questa notizia è apparsa il giorno dopo su diversi giornali della Svizzera interna e della Svizzera francese. Cosa curiosa è che quel giorno in Ticino era festa, quindi i giornali ticinesi non sono usciti e questa notizia si è rimasta diciamo confinata alla parte nord delle Alpi. Altro fatto curioso è che questa notizia è stata riportata da un importante quotidiano del cinese, il China Daily, che riportava appunto la scoperta di una nuova specie trovata in questo cantone meridionale di un paesino dell'Europa. Sì, a me sembra una storia abbastanza curiosa, quindi c'è la Cina, c'è Chernobyl, abbiamo una nuova specie, un topo gigante e ecco il problema è adesso capire se è vera. Scopri altre storie incredibili sul sito www.fantasticstories.ch e vieni a trovarci durante la giornata delle collezioni di storia naturale.